Una fiaccolata contro gli orrori della guerra e per esprimere piena solidarietà e vicinanza al popolo kurdo dopo i sanguinosi attacchi di guerra al confine con la Turchia che vedono coinvolti anche migliaia di civili. Molti comuni ed organizzazioni sociali e culturali stanno manifestando nelle strade e nelle piazze di tutta Italia con cortei e sit-in contro le azioni criminali di Erdogan. In prima linea anche la città di Nocera è inferiore. Ho pensato di organizzare questa manifestazione a favore del popolo kurdo perché la gente non aveva né consapevolezza di chi fossero, in che zona vivessero e anche i miei alunni. Quindi è partita già prima a scuola con delle lezioni fatte, un po' di storia di questo popolo. Hanno fissato una quota base, una quota limite del 40% delle presenze femminili. Cioè ci sono un sindaco maschio e un sindaco femmina. Sono affiancati. Quindi parità di genere e parità di opportunità. è come socialismo, liberalismo dei diritti civili e democratici. Questo a me pare che sia già solo questo importante per fare una battaglia e per sensibilizzare l'opinione civile. La manifestazione è nata per dimostrare tutta la nostra solidarietà e vicinanza a questo popolo kurdo che è da sempre vessato. Sono stati gli unici a sconfiggere l'Isis e tutto questo comunque nell'immaginario popolare già c'è perché tutti conoscono i metodi terroristici dell'Isis. Il governo italiano ha detto che era solidale però non ha fatto niente. Occorrono sanzioni contro la Turchia di Erdogan. Occorre cancellare immediatamente dalla lista delle organizzazioni terroristiche i kurdi del PKK e liberare il loro leader Ocalan. Grazie. 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 Grazie a tutti